Ciao ragazzi, benvenuti su Gassi of Drums. Il video di oggi è un video molto particolare perché è un video che sinceramente non pensavo avrei mai fatto, ma nel momento in cui mi è arrivata questa batteria qui, cioè la DS Drum Venom, trovate il link al video qui sotto in descrizione, mi sono arrivate anche le aste, l'hardware, eccetera, di DS Drum. E nel momento in cui l'ho provato ho detto, qui ci vuole un video, ci vuole un video. Non è un video solito, non è una batteria, non è un rullante, non è un tutorial, niente, ma devo assolutamente far conoscere a tutti le meccaniche DS Drum perché sono robuste, sono fighe, sono semplici e quindi ho chiesto a Luca di Orsola di DS Drum di mandarmi tutte le possibilità di aste, di hardware, di pedali, eccetera, che ci sono. Quindi mi ha mandato tutto, non sono tantissime cose perché ho capito che DS Drum pensa semplice e funzionale. Quindi poche cose anche, ma fatte bene, semplici, che servano veramente e funzionali. Perché adesso ormai, anche per quanto riguarda l'hardware, ci sono hardware di qualsiasi tipo, quindi dalla cosa più strana, assurda, eccetera. No, qui vi farò vedere una, due, tre, quattro, cinque, mi sembra, sei, quello del reggio rullante, sei hardware, che sono i sei hardware compreso il pedale, che fa DS Drum e basta. Ma vi farò capire il perché è una figata, il perché ho deciso di fare questo video. Quindi partiamo subito, mando la sigla e poi ci spostiamo di là alla batteria e comincio a farvi vedere tutto quanto. Voglio partire quindi dalla questione pedali. Nel senso, come vi ho detto, DS Drum costruisce tutto. I pedali, devo ammettere, sono veramente, veramente molto interessanti. Partiamo dal pedale, quello per Charleston, come potete vedere, ovviamente, pedale per Charleston marchiato DS, è un pedale che ha solamente due gambe. Questo, in realtà, gli permette, per prima cosa, di non avere problemi nel momento in cui vogliamo mettere un doppio pedale. Il problema del doppio pedale, di solito, c'è se abbiamo tre gambe, perché con tre gambe diventa un pochettino difficile andarlo a posizionare, poi dobbiamo andare a fare quegli incastri, eccetera. È un pochettino un casino. Con due gambe sole, invece, ne possiamo mettere tranquillamente il nostro doppio pedale qui e non abbia nessuna tipologia di problema. Qui abbiamo la possibilità, tramite questa ghiera, di andare a decidere quanto vogliamo che il pedale risponda in fretta, quanto sia duro, diciamo. È un po' come la molla del pedale della cassa, in pratica. Qui abbiamo una vite che, in realtà, è molto carina perché ci permette di dare anche un'angolazione al Charleston. Questo può essere utile nel momento in cui, ad esempio, siamo su un palco che non è perfettamente dritto, magari siamo su una pedana, le pedane non sono mai il massimo della vita, a parte alcune. Quindi, in questo caso, noi possiamo andare a dare un'angolazione al nostro Charleston, sia verso di noi, sia verso l'esterno. È una cosa in più che, però, volendo, può essere abbastanza utile. Pedale che si comporta molto bene, devo dire, veramente molto molto bene, poi super massiccio, come vi ho già detto, come tutte le aste e le meccaniche di S-Drum. Se metto l'accordiera potrebbe suonare tutto meglio. Risponde veramente molto 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 bene. Stessa cosa per quanto riguarda il pedale della cassa. Il pedale della cassa, in realtà, ve lo posso anche prendere per farvelo vedere. Un pedale molto semplice, in realtà. Mi piace questa cosa, come vi ho detto, della semplicità. L'ho già un po' impolverato, devo dire. Della semplicità che ha di S-Drum nel fare le cose, semplice e funzionale. Quello che piace a me. Anche qua, marchiato di S-Drum, un pedale a catena doppia. Ve lo faccio vedere, magari di qui, potrei farvelo vedere. Pedale a catena doppia. Mi piace molto il, come si chiama, il battente di questo pedale. Beh, come potete vedere, sopra è marchiato di S-Drum. E mi piace molto perché nel momento in cui vado a posizionarlo qui, dalla camera in alto, potete vedere lo stemma, diciamo, di S-Drum. È una chicca, però di S-Drum fa molta attenzione a questa cosa, quindi mi piace. Bravi, devo dire, bravi. E poi, detto questo, per il resto, molla, che ovviamente si può andare a regolare come si vuole. Qua abbiamo il ferma pedale, diciamo. E come risposta è veramente un pedale molto leggero. Ovviamente dipende da leggero, non nel senso di molla, nel senso non è che è un pedale che va dove vuole. È un pedale molto controllato, ma molto leggero da utilizzare, nel senso non te lo senti sotto i piedi. È una bella sensazione, devo dire. Veramente un ottimo pedale questo. Infatti, dopo che mi è arrivata questa batteria, io ho continuato comunque a utilizzare il pedale. Ed è vero, perché lo potete vedere negli ultimi video che ho fatto. Adesso voglio passare, in realtà, all'hardware vero e proprio. Quindi andrò a prendere questa asta qua, perché anche le aste, come vi ho detto, sono di S-Drum. E in realtà è principalmente di qua che mi è venuta l'idea del video. Perché mai avrei fatto un video su delle aste se non ne avessi avuto veramente il motivo. Ma volevo farvele proprio vedere queste cavolo di aste. Io ci sono rimasto male, ve l'ho detto anche nel video scorso, che vi ricordo essere qui in descrizione. Allora, la cosa che mi ha fatto rimanere male di queste aste non è tanto come sono fatte. Nel senso sono delle aste, alla fine, normali. Un'asta ha le gambe, ha una barra due alzini, qua come si chiamano, poi ha l'affare che lo fa diventare la giraffa. Mi piacciono tutti questi termini tecnici che sto dicendo, affare, cosino, eccetera. Ma la cosa che mi ha fatto innamorare di queste aste sono, per prima cosa, i particolari. Perché banalmente tutte le memorie di queste aste hanno il logo di S-Drum. Sono tutte molto perfette. Cioè, guardate nel momento in cui metto le memorie, quanto è pulito tutto. Mi piace questa pulizia, questa semplicità, ma allo stesso tempo ricerca di S-Drum. E poi, la cosa che mi è piaciuta più di tutte, è che nonostante siano nuove, eccetera, quindi le aste nuove vanno meglio, ma non mi è mai capitato di avere delle aste che andassero così tanto bene. Nel senso, da non avere nessun tipo di problema a tirarle avanti, indietro, abbassarle, alzarle, muovere qui questa cosa, che tra l'altro ha dei mini, mini dentini, in modo tale da non avere una pallina e basta, ma poter fare dei mini scatti per riuscire a posizionarla come vogliamo. Questa è un'asta, appunto, normalissima, quindi non vi devo spiegare niente, volevo solo farvi capire le peculiarità dell'asta. E possiamo, ovviamente, utilizzarla, vabbè, in questo modo, oppure a giraffa. Io adesso ce l'avevo posizionata normale, faccio il maleducato e parlo mentre sono di spalle, ma comunque posso anche andarla a mettere, come vedete, credo, dalla camera di sopra, vedete, è a giraffa. Io vado a posizionargli poi il mio piatto e sono a posto. E il piatto è posizionato. Stessa cosa, ovviamente, anche per l'asta che tiene il mio crash, l'altro mio crash, e quella che tiene il mio ride. Non sono stato a farvele vedere, sono delle aste uguali, identiche a questa, ma hanno i tom attaccati, quindi anziché dover smontare tutto, ho preferito farvi vedere quella che prende un crash, diciamo. E tra l'altro, le aste molto spesso sono sottovalutate perché alla fine dici, vabbè, devono tenere i piatti, ma prima cosa se i piatti stanno fermi, è una gran cosa, perché almeno non dobbiamo andare a rincorlarli con le bacchette, i piatti. E in più, nel momento in cui le aste devono tenere anche i tom, è importante che li tengano ben saldi e non si muovano i tom. Quindi, queste veramente ottime, l'asta che è la cosa più stupida, passatemi il termine, ma quando hai un'asta di qualità, capisci che è veramente un'asta di qualità. Reggi rullante, che è molto comodo, io, vabbè, gli ho attaccato questa clamp qua per andare ad utilizzare il microfono sotto, che ho di nuovo spostato. In pratica funziona come il resto delle aste, quindi super comodo, super massiccia. E in più, qua in mezzo, non si vede, ma comunque dove vi sto indicando adesso, ha una pallina che ci permette di muovere il rullante assolutamente come vogliamo. Possiamo muoverlo in qua e in là e in più possiamo anche traslarlo avanti e indietro. Così almeno possiamo posizionare anche il reggi rullante un pochettino più lontano, comunque dove non ci dà fastidio, e poi traslare il rullante proprio in senso orizzontale. E c'è una specie di rottaia, diciamo, e così almeno ce lo posizioniamo come siamo comodi, come c'è comodo e tutto quanto. Adesso passiamo alle chincaglierie. Mi piacciono le chincaglierie, mi piacciono molto, quindi vado a prenderle, sono tre. Non trovo le altre due, dove l'ho messe? Perché appoggio la roba a caso sempre? Ah, sono qui. Eccomi qua. Allora, praticamente queste sono le chincaglierie che a me piacciono tanto, perché sono quelle cose un po' fuori di testa che però mi piacciono. Più che altro super comode, super piccole, ci stanno in tasca praticamente, e ti salvano la vita in alcuni casi. Partiamo da questa, che è quella un po' più semplice, diciamo, tra le due. C'è super semplice asta singola, che io voglio utilizzare per andare a inserire un china. China che vorrò mettere più o meno qui, un pochettino più in alto del crash. Quindi la cosa che posso fare con quest'asta è, per prima cosa, allora, andare a posizionare il mio crash in questo modo, quindi lo metterò un po' più in basso, e in maniera super semplice io vado a inserire la mia asta di S in questo modo. Così, così, e io il mio china ce l'ho. Non so se lo vedete da questa camera, va a vedere? Non lo vedete? Ma ve lo faccio vedere subito. Posizionato in questo modo. Non lo vedete? Lo vedete? Sì. Io, poi, volendo, posso anche andare a tirarlo un po' più verso sinistra, un po' più verso destra, come voglio, anche un po' più indietro, e posso fare abbastanza tutte le manovre che voglio. Quindi io posso suonare tranquillamente con un'asta aggiuntiva, senza avere l'asta aggiuntiva. Come potete vedere qui, sembra attaccato in modo un po' strano, ma il china pesa, è da 18, ma qui non muove nulla, eh, ragazzi. Quindi sta assolutamente, devo dire, come potete vedere qui. Quindi, altra asta, vabbè, questa lasciamola. L'altra asta è composta da due asticine più piccole, e qui è nel caso in cui voleste un qualcosa di un po' più complicato. Vi spiego. Proviamo a inserire adesso uno splash qui, cercando di non dar fastidio ai microfoni. Per prima cosa vado a inserire la mia mini asta all'interno dell'altra asta, quindi super semplice ma molto efficace. Poi vado ad inserire l'asta piatto, ed ecco qua che in due secondi praticamente ho posizionato l'asta. Basta andare adesso solamente a inserire il mio splash. Posso ancora modificare un po' l'asta come voglio, ma il problema è che lo splash devo cercarlo, non so dove sia. Quindi, di base, quello che io ho qui adesso sono uno, due, tre aste, ma ho cinque piatti, perché con le aste aggiuntive, questa del China e questa doppia, diciamo, dello splash, io ho molti più piatti senza troppe aste. Musica Quindi, ragazzi, sono contento di aver fatto questo video, perché da quando ho provato queste aste, devo dire che è stata una piacevole sorpresa quando le ho provate la prima volta, perché non mi aspettavo questa cosa. Ve l'ho già detto tante volte in questo video, ma non mi aspettavo tutto questo. Sono contento per vari motivi, perché queste aste ho potuto farvele conoscere, sono molto contento perché sono riuscito a inserire due piatti in più all'interno della batteria senza troppi sbattimenti, cioè mettendo due astine lunghe così, ho messo due piatti in più sulla mia batteria. Questa è sicuramente una cosa positiva anche per chi magari suona live e quindi non ha più bisogno di portare così tante cose. Come avete visto, queste mini aste sono molto robuste e possono portare, magari non ci metterei un ride, ma io ci ho messo tranquillamente un China 18 e l'ho suonato pestandolo bene e non si è mosso, quindi direi che possono tenere abbastanza qualsiasi tipologia di piatto. Io voglio ringraziare ancora DS Drum per avermi mandato questa batteria che vi ricordo la troverete in descrizione, ma non la vedrete ancora comunque su questo canale, per avermi mandato queste aste, per avermi mandato i pedali che vi ho fatto vedere e anche queste chincaglierie, che a me piace chiamarle così. Quindi, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, i link che vi servono e trovate il link qui sotto per andare a vedere la recensione di questa batteria qua e basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!